Perché sei affatturato? Io cazzo c'è capato! Sì, ma da chi ha una maggiori, se c'è qualcosa? Niente, no! E da chi ha una maggiori? Ma se ti aspetta, ma non mi fa vedere, non mi possa ripresare, non mi ha detto, ma non mi fa vedere, 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 ma non mi fa vedere. Ma non mi fa vedere, 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 ma Grazie a tutti.